Guarda che bello il villaggio, guarda, guarda, è bellissimo adesso! Steph, dov'è la mia casa? L'ho demolita! Perché? Perché era troppo brutta rispetto a queste case! No, capisco la tua che era uno schifo vivente, ma la mia perché? Perché era brutta, Ferre, dai, cioè, guarda, rispetto a queste villette dovresti ringraziarmi! Sì, ho capito, ma dovevamo fare le casettine noi, queste sono già pronte! Ma noi dobbiamo fare tutto il villaggio intorno, Ferre, altrimenti sono soltanto delle casette in mezzo a una pianura! Va bene, però devo fare una cosa importantissima! Ok! Sei seria? Sì, sì, almeno la mia casa è, è capito, distinguibile da tutte le altre, ok? Ecco qua, bellissima, bellissima! Possiamo iniziare! Ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki! E io sono Stefano, che si chiama Scrap Mechanic! E siamo tornati qui su Scrap! Visto che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo, siamo qua, prontissimi a provare a costruire e a continuare a vedere le costruzioni sicuramente più belle delle nostre! Esattamente, allora abbiamo preparato un po' di costruzioni fantastiche che sono state fatte dagli altri, ma prima di tutto vogliamo gestire un po' il nostro villaggio! Abbiamo deciso che dato che per ora ancora non siamo abbastanza bravi, usiamo delle case molto basi come queste qua che alla fine sono delle vilette semplici semplici e iniziamo ad arredare il villaggio intorno! Quindi oggi faremo delle strade, metteremo, diciamo, la fauna della zona perché abbiamo messo una mod che ci permette di fare anche quello! Bellissimo! Iniziamo a rendere, diciamo, a dare un contesto a queste case perché alla fine sono soltanto delle case in mezzo a una pianura, noi li daremo un senso e li renderemo una specie di distretto privilegiato super bello! Sì, poi ovviamente, man mano che ci prendiamo la mano proveremo a fare anche le nostre vere e proprie accoluzioni! Io stavo pensando che praticamente in una zona un po' più allontanata del villaggio, ok, mettiamo due casette base base, ad ogni episodio, ogni pieno pieno mettiamo qualche dettaglio in più fino a quando non diventerà una vera casa! È impossibile! Lo so, quella è casa di Fere, perché ha il biscotto, adesso devo segnare la mia con qualcosa e secondo me... Ho un biscotto anche tuo, guarda, ho un biscotto perfetto per te! No, Fere, Fere, non ci provare, a me non piacciono! Gli oreo che a te non piacciono tantissimo! Esatto! Io voglio questo, così rosichi un po'! Premi, eh! Aspetta, no, mi devo togliere tutta la barra che mi sta... Fammi una foto! Fammi una foto per Instagram! Aspetta! La devi mettere come foto di Instagram! Lentina o foto ufficiale? Dove vuoi? Basta che mi fai una foto così fantastica! Allora, c'è una foto, aspetta! Ok, grazie! Ma perché c'è sempre i selfie in questo telefono? Perché ti fai solo i selfie! È un attacco! Non negarlo, ti fai solo i selfie! È abbastanza vero! Si mette poi le foto su Instagram, appena tagliato i capelli, maglietta nuova, tutto così! Andate a vederlo perché è davvero imbarazzante! Ho fatto la foto! La realtà non si può fare quando me lo puoi negare! Comunque questa è casa mia perché c'è il cane e non lo puoi mettere anche tu! Allora, io pensavo, uno inizia a lavorare sulla fauna, quindi sulle piante, cespuglie, eccetera! Io voglio fare quello! L'altro sulla strada, quindi io lavoro sulla strada! La parte più noiosa la fa Steph! Allora, devo scegliere un bel blocco! Ti va andrebbe bene in brick fatto un bello grigio? Come se fosse una strada medievale? In pietra, quindi? Eh? Sì, ci sta, ci sta! Ok, perfetto! Aspetta, io ho il blocco perfetto, però! Per che cosa? Per la strada! Fammi vedere! Bene, quelli sono in Lego! Dimmi che non sarebbe fantastica la strada Lego, vabbè! Non fa neanche ridere! Allora! Vedete i consolini, Steph distrugge tutta la mia... Ma no, ma no, è vero! Cioè, tu mi stai dicendo che non posso essere una persona creativa! È questo che mi stai dicendo e ci sto rimanendo malissimo! Iniziamo a fare prima di tutto la forma! Perché dobbiamo unire tutte e tre le case in un singolo punto! A mo' di villaggetto appunto carino carino! No! Che stai combinando? Fere, una cosa che ti dà troppo fastidio! È storto? Sì! Perché mi devi fare questo? Fere, io non lo vorrei fare, però... Aspetta! Lo sistemate un po'! Devo buttare già tutto, no? Ho capito come fare, secondo me, però mi serve un po' di tempo! Ok, tu pensa a fare bene le tue dannate piantine! Che anche tu non è che stiano andando molto bene per ora, eh! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Allora, praticamente si scende, si va così... Qua si può andare a questa casetta, altrimenti da qua si va a questa! Mettiamo un cespuglietto qua, guarda che... I cespuglietti negli angoli! Sì, i bellini! Carini, carini! Bellini, bellini! E anche magari tipo un alberello piccolino, che dici? Ci sta? Prova, 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 prova! Tipo questo! Ok! Molto piccolo! Io direi poi di non esagerare, perché se no sembra che viviamo in mezzo alla foresta! Però mi piace! Questa è la discoteca del villaggio! No! Perché no? Via, toglila! Perché no? Guarda invece cosa ho pensato io! Ok! È carina, no? Molto! Vero? Bene! Guarda che meraviglia! Che cosa? Guarda! È un trattore gigante! Ma questo ce lo teniamo, ci servirà per i campi! Esatto! Guarda! Ti ci vedo a tuo agio nel trattore! Grazie, sì! Aspetta che cerco di investirti! No, grazie! Vuoi guidarlo? Allora, domanda da un milione di euro! Ok! Dove lo parcheggiamo? Mi ha investito! È davvero gigante! Tra una casa e l'altra? Sì, 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 sì! Tipo qui dietro, guarda! Tra la tua e la mia? Esatto! O tra quella dello sconosciuto e la mia? Qui dietro, sì! Ok! Ci sta! Ci sta! Va bene, va bene, va bene! Allora, vado a parcheggiarla, vado a parcheggiarla perché ci ho pensato che comunque anche un po' di veicoli che hanno senso per il villaggio danno atmosfere e sono fantastici e poi quando serve lo prendi e lo usi! Questa è la casa dei consolini! Mi piace! Anche se voi non siete nel gioco, facciamo l'arredamento fighissimo per la casa dei consolini! Sai che cosa possono fare? Ahà! Mi è venuta l'idea della vita! Questa segnala proprio voglio l'hashtag idea della vita! Loro propongono le cose da fare e noi le facciamo? No! Loro ci propongono le cose che gli piacciono! Ad esempio, il pallone da calcio è adatto a chi piace il calcio e noi cerchiamo di trovare un arredamento interno ed esterno per accontentare i gusti di tutti i consolini! Così, queste sono le nostre arredate in base a come le vogliamo noi! Ma è molto più figo se noi partiamo dalla casa così e loro iniziano a proporci tipo fatelo di questo colore, mettete questo arredamento! Sì, ma intendevo proprio così! Cioè, ci propongono magari a me piacciono gli animali e mettiamo un cagnolino anche a loro! Poi dicono magari, a me piacerebbe una stanza così e cerchiamo di farla in quel modo! E valutiamo il commento con più likes e ogni volta facciamo quella modifica? Sì! Ok! Quindi i consolini... O comunque quello più adatto tra quelli con più likes! Se vedete un'idea che vi piace dovete mettere il like così accontentiamo tutto! Ok! Perché vabbè, fare tutte le idee sarebbe impossibile però cerchiamo di fare quelle più belle! Esatto! È bella questa cosa! Allora, sì, mi piace un sacco! Vabbè, mi hai messo un consolino? Sì! Oh, è fantastico! È praticamente una sorta di statuette! Siccome loro non possono essere qui fisicamente, ho deciso di metterlo qua! Guarda! Ecco! Allora, voi siete i consolini tutti! Non solo uno, tutti! Tutti insieme! Dai, per avere compagnia! Non ti sembra carino! No, no, mi piace, mi piace, mi piace! Ho spostato il trattore lì in fondo! Secondo me vi piace un sacco! Perché c'è proprio la zona grano! Quello lì giallo! È vero, non l'avevamo vista! È proprio il grano! Non l'avevamo vista! Alla mia casa, perché secondo me è fondamentale! Cos'è? Ciao, Fede! Non posso entrare anch'io, accidenti! Non c'è posto, mi spiace! Peccato! Ti metto un biscotto sopra per non vederti! Dai! Per non vederti! Però ci sta bene! Sì, no, vabbè, non fuori, eh! No, certo! Dentro casa! No, non è una iacuzzi, è una vasca da bagno! No, è una iacuzzi! No, è una vasca da bagno! Per poveri! Qua! Io me la tengo qua! Mi piace, mi piace, mi piace! Perfetta così per me! Fede, 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 abbiamo lavorato tanto! Andiamo un attimino a pranzo? Sì, certo! Cosa hai fatto? Eh, ho costruito il posto dove andare a pranzo! Però, come puoi notare, la ghiama bestia, perché è troppo grande! Vediamo se lo riconosci! Ho capito! Ho capito! Il Krusty Krab! È troppo bello! Ma che bellino che l'hanno... Come l'ho fatto? Non ho idea! Lasciamo perdere! Ci hanno fatto anche una barchetta lì fuori, fantastica! Lo so, lo so! Mi ci posso sedere? Allora, vieni a vedere anche dentro! L'hanno fatto uguale! L'hanno fatto avere uguale! Mamma mia, che lag! Configgi la lag! Ce la possiamo fare! Allora, calmi, calmi, calmi! Cerchiamo di girarci intorno! Piano piano, esatto! Piano piano! Guardi tutto! Questi sono tutti i tavolini super carini a tema! Dopodiché... Mi siedo, così magari smetto di lagare! Non credo! Un pochino, un pochino, sì! Qua c'è la zona cucina! Vieni a vedere quella! Aspetta, sì! Ci vuole coraggio! Configgiamo tutto! Aiuto! Aiuto! Purtroppo le costruzioni grandi... È fatta troppo bene! Però no, è perfetto! Che bello! Io non vorrei troppo da tenere per andare a pranzi e a cena qua, però... Cioè, con questa lag... Dovremmo trovare il modo esatto di riuscire a tenercela allo stesso! No, che bellino! Guarda qui! Che cos'è questo posto? Sembra tipo la sedia del capo, l'ufficio del capo! Sì, lo è, lo è, lo è! C'è anche nel gioco, è vero? Però non pensavo l'avessero fatta, è super dettagliato! Nel cartone, non nel gioco! Sì, eh, vabbè! E io non lo guardavo troppissimo! La lag che sta confondendo il mio cervello fuori! Ti dico la verità, non lo guardavo troppissimo! Scappiamo! Ed eccoci qua, dobbiamo scoprire esattamente che cos'è, se è una locanda o che cos'è! E diamo! Questo di sicuro è il magazzino! Suppongo gli sti! Ok, apri quell'altra porta! E siamo fuori! Ok, c'è il nostro trattore bellissimo! Si entra da qua, allora! Da dove? Da qui! Vediamo! Aspetta, non c'è nulla! Cioè, mi hai messo un posto vuoto! Mi stai dicendo che non è una locanda e non è niente? Ho forse un posto da arredare, nel senso che te lo danno vuoto e poi ti arrangi! Sì, non vedo altre entrate! Beh, sarebbe carino sfruttarlo! L'entrata è esattamente qual è, questa? Anche se è storto io ci entro! Ce la facciamo? Sì, sì! Ok! Ma che meraviglia! Allora, se tu vai a guidarlo! Premi tutti i tasti! Esattamente! Cosa fanno tutti i tasti? Io li ho premuti tutti! Guarda! Hai visto? No! Che sta succedendo? Guarda a fianco a me! Ah, sei come i conducenti degli autobus! Poi! Due! Quella di dietro! Ok, sì, sto vedendo! Tre! I fari accesi o spenti! Dove? Qui davanti? Sì! Non li vedo! Quattro! Posso mettere la freccia! Mi sembra giusto! Mi sembra giusto mettere la freccia! Questo che fa? Oh, vabbè! Cosa ho scoperto? Guarda anche qua! Scendi le luci! Guarda tutto quello che c'è! Vieni a cliccare di tutto! Tu ti diventi a cliccare e basta! Apri il forno, guarda! Ok! Sì, a me piacciono i tasti! No, ma a me piace questa cosa per andare di sopra! Come si faceva? Non te lo dirò mai! Questo! Trovato! Però aspetta! Non abbiamo finito di cliccare questi! Sì, cosa fanno? Io vado di sopra senza fare! Vabbè, vengo anch'io! Non fanno nulla quelli! Oh! Però è tipo per fare discoteca qua? Sì! 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 Metti musica! Si può mettere la musica? Non lo so! Canta allora! Sere! Dimmi! Dove ti avevo detto quelli nei cani? Se tu ne hai uno, ne devo avere due! Guarda! Ne volevo mettere cinque e mi sono contenuta! Ah, che gioco meraviglioso! Sono troppo bellini! Che gioco meraviglioso! E farò un recinto di cani in tutta la casa, capito? Il perimetro della casa è tutto di cani! Va bene, va bene! Ma lo farò, guarda! Se sei contenta tu! Dai, allora, secondo me non è male! Nel senso che non è che abbiamo fatto tutto noi, abbiamo prevalentemente arredato un pochettino! Però inizia ad essere carino! Quindi, allora, prima cosa, ci dovete assolutamente dire che cosa volete come prima modifica della casa dei consolini! E vedremo se si può fare anche un cartello personalizzato così lo scriviamo! E lo scriviamo, sì! E dicevo, quindi prima cosa che volete vedere, o le prime, comunque noi ci basiamo sulle cose realizzabili con più likes! Quindi cercate di mettere likes alle idee che vi piacciono! Dopodiché, fateci sapere che cosa vorreste vedere nel prossimo episodio di costruzioni incredibili! Tipo qualche macchina particolare, qualcosa di fantastico! Così le cerchiamo e le mettiamo e le proviamo! E infine, credo che nel prossimo episodio inizieremo anche le nostre case! Sì, mi sembra giusto! Cercheremo di coraggio e ci proveremo! Sì, ci proveremo perlomeno! Piano piano, un pezzo alla volta! Un giorno un muro, un altro giorno un altro muro! E prima o poi diventerò una vera... Fere! Mi sto facendo il bagno nella tua vasca! In ogni caso, ci fermiamo così per questo video! Speriamo che vi sia piaciuto! Quindi nei commenti fateci sapere tutte le cose che vi ho chiesto! Mettiamo anche ovviamente un sondaggino! Tanti likes per supportare la serie! E ci vediamo domani! Come vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi di altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao!